Siamo qui all'Exma, a Cagliari, non c'era mai stato e sono molto contento di esserci. Cosa sono venuto a fare? Sono venuto a fare principalmente due cose. Uno è quello di fare dei laboratori, della formazione e quindi coinvolgere le persone all'interno di quella che è una visione un po' differente, decentrata rispetto alla solita perché parte questo modo di lavorare dall'assenza della visione, quindi dalla cecità. Dall'altra parte invece c'è proprio un percorso immersivo che si ritorce su se stesso ed è un'installazione che faremo per sviluppare tutte le altre sensorialità rispetto a quelle della vista ma anche per lavorare con il tema della vista, ma anche per lavorare sulle memorie, per recuperare le memorie muscolari, le memorie che stanno anche all'interno e nascoste del nostro corpo.